Una delegazione dei sindaci facenti parte della Unione delle città europee ha fatto visita alla sede del Consiglio regionale di Pescara. Oltre ai primi cittadini abruzzesi di Fresa Grandinari e Lentella, erano presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali provenienti da Germania, Francia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Ungheria, che in questi giorni stanno visitando la nostra regione. L'incontro rappresenta uno degli step necessari per l'organizzazione dell'annuale raduno di 100 giovani europei, organizzato in collaborazione con l'AICRE, associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che nel 2019 si terrà proprio in Abruzzo.